Erano partiti da Messina per raggiungere Bolzano con un carico di droga, ma il loro viaggio è terminato ad Arezzo, dove lungo l'autostrada del Sole sono stati fermati ed arrestati dalla polizia stradale, che li ha sorpresi con tre etti di catta, conosciuta anche come droga dei poveri, per il costo relativamente basso rispetto agli altri stupefacenti e i suoi effetti eccitanti anche solo all'olfatto. I due, un uomo e una donna, entrambi ventenni ed originari della Somalia, erano partiti in autobus dalla Sicilia lo scorso sabato sera per arrivare il giorno dopo a Roma e proseguire poi verso Firenze raggiungendo infine Bolzano. Avevano pensato di viaggiare in autobus anziché in treno, convinti che così avrebbero eluso meglio i controlli della polizia, ma sono stati fermati e controllati all'altezza di Arezzo da tre pattuglie della sottosezione di battifolle della postrada. A bordo dell'autobus c'erano 40 passeggeri, tutti con i documenti in regola, tranne due, sorpresi dai poliziotti, anche a nascondere una scatola. All'interno infatti c'erano 13 sacchetti di plastica contenenti foglie secche che sembravano te ma che in realtà erano cut. In caserma poi gli investigatori hanno scoperto, assieme ai colleghi della scientifica, che i due erano arrivati in Italia nell'ottobre scorso e sbarcati a Lampedusa su un gommone. La postrada li ha arrestati e ha sequestrato oltre 300 grammi di droga.